A quasi due anni dal referendum per la ripubblicizzazione dell'acqua si votò l'11 giugno del 2011. Si è aperto in Toscana il primo tavolo istituzionale tra il movimento referendario e i sindaci dell'ex Ato 3 Medio Valdarno. L'incontro è avvenuto nella sala Sant'Agata del comune di Pistoia e hanno partecipato le amministrazioni di Prato, Poggio a Caiano, Agliana, Quarrata e Pistoia. Nel giugno del 2011 27 milioni di italiani si espressero a favore della ripubblicizzazione del servizio idrico. È stata dell'apertura di un tavolo sulla ripubblicizzazione dell'acqua. Il comune di Pistoia è il capofila di questa cosa, se ricordate bene il sindaco Bertinelli ha fatto la sua campagna elettorale sulla ripubblicizzazione dell'acqua. Oggi a distanza di due anni dall'esito referendario cominciamo con l'apertura di questo tavolo insieme al movimento dell'acqua e insieme ai sindaci per vedere quali saranno le modalità per ripubblicizzare l'acqua, per dare voce a quei 27 milioni di cittadini che nel 2011 hanno votato il referendum per avere l'acqua pubblica. Come è comune, come vi muoverete? Si tratta di andare a guardare delle situazioni che hanno già una storia abbastanza lunga perché gran parte della privatizzazione fu fatta agli inizi degli anni 2000 attraverso un bando di gara a doppio oggetto, cioè cercando il socio e affidando il servizio. Per cui oggi abbiamo a tutti gli effetti un affidamento e un socio che è regolato da dei contratti che certamente hanno il suo valore legale. Quello che il referendum ha espresso è una volontà precisa, si tratta di vedere se riusciamo a individuare un percorso che possa rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini ma che trovi anche una pratica applicazione nella legalità. Grazie. Grazie. Grazie.